E in vista delle elezioni per scegliere il nuovo sindaco di Alessandria, continua il nostro viaggio attraverso i quartieri e i sobborghi della città per chiedere direttamente agli abitanti del posto che sindaco vorrebbero e quali interventi considerano più urgenti. Nel servizio di oggi parliamo di Via Dante, zona Arco e Piazza Matteotti, chiamata anche Piazza Genova. Vediamo Tedevici. Tra poco ci sono le elezioni amministrative, si sceglie il nuovo sindaco, non sappiamo a quale partito apparterrà il nuovo sindaco, ma insomma le richieste arrivano un po' da tutti i quartieri, da tutte le zone. Qua in Via Dante, Piazza Matteotti, quali sono le richieste? Beh, sicuramente avere un punto di incontro come può essere un'isola pedonale che funzioni e che rispetti gli orari che già adesso ci sono, però non vengono utilizzati, dalle 4 alle 8, quindi avere la possibilità di avere la via chiusa, i bar che possono magari uscire sulla strada, avere un punto panchine dove la gente si può ritrovare, varie possibilità per fare in modo che la gente sia attratta dalla via. Dei problemi in questa zona, soprattutto con le bande di ragazzi molto giovani? Sti ragazzini che hanno saputo rovinare anche la famosa renna, perché l'hanno rotta poi loro, poi ce l'hanno tenuta tanto buia. Abbiamo un via Ghilini e i giardini di Piazza Matteotti che mettono paura. È buio, è tutto molto molto buio, è tutto molto buio. Al prossimo sindaco chiedo di spianare sempre i debiti di 6 anni fa in modo che la città possa riemergere per quello che è, perché guarda che qui abbiamo criticato questa signora qua, ma questa ha spianato i gobbi, come si suol dire, i debiti della precedente amministrazione. La qualità della vita, la sicurezza, tutte queste cose si vive abbastanza bene? Io direi che si vive discretamente bene. La sicurezza in Italia è quello che è, però in Alessandria non abbiamo tutti questi macue, o chiamiamolo disfattismo. Questo è disfattismo. Io amo Alessandria, la città più bella del mondo per me, quando da me viene qualcuno che parla in dialetto alessandrino, mi riempie il cuore. E io quindi, è la dimostrazione che io amo Alessandria, amo i grigi, non so se la cosa mi può... Sappiamo, sappiamo. Io amo i grigi come amo Alessandria. Sì, che ci sia più, come si dice, più spettacoli, più cambiamenti, lavorare i cambiamenti su Via Dante, sì sì. Cioè un po' più di vita, di attività. Sì sì sì, che fanno qualche attività per Via Dante, anziché di stare sempre al centro. In termini invece di sicurezza, tranquillità, la zona è abbastanza tranquilla, è curata? Sì sì sì, almeno dove sono io è abbastanza tranquilla e abbastanza sicura. Magari un po' più di interessamento per quanto riguarda le strade qua e là, perché per le piazze sono abbastanza tenute in ordine. Adesso finalmente le fontane funzionano regolarmente. Sì sì, magari sulle strade più che altro qualcosa, sennò qua sulla piazza siamo abbastanza messi bene. Sì, condivido il discorso che dice mio cugino, l'altro è un po' più politico, è un po' più in ordine alle strade, perché è un casino le strade. Con le macchine ci lasciamo sempre le ruote, comunque, al di là di quello va abbastanza bene.